Ehi, tu? Stiamo già registrati Benvenuti con... No, va avanti con il discorso No, va avanti con il discorso Vieni qua, vieni qua in internet Stavo dicendo, nooo Che volevo rubare un po' dell'idea a tutti, ok? Questo qui era dei Pantella, ce ne abbiamo rubato Gianni di Giacomini ce ne abbiamo fottuto Ce ne hanno copioni di... Beh, funziona così il mondo, è giorno dolce C'è il tempo di crisi e si vede ovunque Ricollegandoci al discorso di oggi al fullblog Oggi insegneremo come tenere... A fuoco Spero di si Si, si, si Trucchi di magia Esatto I mandarini Dai, ti faccio un po' parlare a te oggi Ok, stavo dicendo, per ricollegarci Per ricollegarci Scusate No, vabbè Io muoio, ti giuro Un saluto Che bei tempi, i quindici anni Che bei tempi, ragazzi Non ti cornuti a quindici anni Cioè, non voglio da un po' che iscrivi così qualcuno a quindici anni Non voglio che ci offrenda, eh Però, occhio per occhio, dente per dente Bene Ricollegandoci all'argomento di oggi Volevamo spiegarvi come ottenere iscritti gratis imbrogliando E provare Il problema suo è che non capisce che questa roba va online e bisogna spiegarla con un linguaggio tecnico Non alla buona Si, eh, tu devi capire invece che quelli che ci seguono sono Eh No, è sui nostri fan che ci guardano E quindi niente, la spieghiamo con più tecnicismo Praticamente, per non essere banati da Youtube Spieghiamo semplicemente come Tramite, tramite svincoli Come tenere iscritti gratuitamente Come tenere iscritti in più No, gratuitamente, gratis Come tenere iscritti in più Con poco Ho follower su Twitter E mi piace su Facebook Allora, mi piace sulla pagina Facebook Follower su Facebook No E niente, ora passiamo al trucchetto No, ok No, passiamo al trucchetto Cioè, allora in sintesi ragazzi, non avete capito niente Praticamente questo è un trucco per avere più mi piace su Facebook Più follower su Twitter E più più in tutti i siti Sì, esatto, gratuitamente Sì, ho ripetuto cosa ha detto lui Ok, va bene Sì, però aspetta, inizio a riprendere lo schermo Allora, nuova registrazione schermo Sta andando? Sì, allora Non credete a tutte le ragazze Inviamo un messaggio Non credete ai vostri morosi Se vi dicono di non ascoltare Se una persona diceva un messaggio Cioè, se una persona vede su Facebook uno stato di una ragazza che tagga su morose In uno stato In uno stato Tipo In treno con te Cuoricino Più una certa data Scusami Cosa deve capire la morose Deve capire che Giusto? Eh, sì Ma invece no, quando la morose le dice non credere a questa zocola Perché? Perché è una zocca Allora lei dice Ah ok, scusami tanto, sono sbagliato Ma ho dubitato di te Non è così Non fatemi prendere per il sederino Esatto, dai Siamo adulti ormai Comunque Torniamo al Fluidblog Bene Fare clic per registrare tutto lo schermo Fai clic Io clic Lo sto facendo Bene Ora I miei cavoli di Facebook non mi interessano Ok Dovete iscrivervi su questo sito Che si chiama addmifast.com Metteremo il link in descrizione come al solito Esatto Praticamente Allora Prova Da quando ho capito prova ad iscriverlo Visto tu non sei capace Ebbene anche tu secondo me Ok basta Eh Vi scrivete E tramite l'email confermate l'iscrizione Bene Poi vi si aprirà la pagina iniziale Dove voi vi dirà Che Avete 50 punti Che sono? Vi spiego perché non 59 Dopo vi spiego Perché abbiamo fatto Aspetta no 50 punti iniziali Voi andate praticamente su My Site giusto? No su Ad Site Page Ad Site Page Esatto E aggiungete la pagina Cioè il tipo Il tipo di sito Si che volete Oddio difficile sta cosa Se volete aumentare i Facebook like Sono i mi piace sulla vostra pagina di Facebook Oppure Se volete condividere il vostro link Se volete i follower Se volete i follower sulla vostra pagina Facebook Poi c'è anche Google C'è YouTube C'è Twitter C'è un po' di Twitter Decidete quello che volete voi No in questo caso facciamo Facebook likes Si Clicchiate worldwide Tutto il mondo Il titolo Mettete quello che vi pare Il titolo della vostra pagina L'url della vostra pagina Mettilo dai Facciamo la prova Eh ok Titolo Gianni Gianni Corna L'argomento di oggi Viva i mandarini Tutto attaccato Viva i mandarini Cornuti Sii Cocoruti Coruti La prese sono No Qua ci si fa Dai Allora Pagina url Mettiamo la mia pagina del Fruitblog Ovviamente iscrivetevi alla pagina del Fruitblog Bene Ehm Copia Muoviti Ok Incolla Total clicks Andate On Mettete No I click totali Che deve avere la vostra pagina Quando avrà raggiunto il suo scopo Cioè mille Quelli che volete giornalieri On Ma potete anche aumentare Esatto E qui i cpc Sono i punti Che gli altri vi sottrarranno In cambio del loro Ad esempio qui Il loro mi piace Se una persona vi mette mi piace Mi sottrarrà dieci punti E a sua volta Lei otterrà dieci punti Dieci punti Quindi anche le persone che mettono mi piace A questa Le vostre cose devono essere iscritti ad Admetafast Admetafast Ad me Si Oh Admetafast Se vedete voi In una pagina iniziale Si scrivono in 20.000 ogni santo secondo Quindi E' tanta la gente iscritta Quindi se mettete worldwide Ovviamente Worldwide West Vi cliccano tanti che vanno risolanti Del wild west Bene Fai la prova pratica Vediamo quanto ci mette Save change Save change Fallo Potete anche cambiare il numero dei punti Ovviamente Sì ne mettiamo dieci perché siamo generosi Esatto Si bloccò Va bene ma raccontami di quella volta Esatto Ma come Perché abbiamo iniziato sta cosa con noi Perché abbiamo trainato con noi questo fardello Quale fardello? No no A parte quello Assieme Fosse quello il fardello Sei morto Evard Si una storia molto triste Eh già Beh non va Vabbè qui taglio un po' insomma No vabbè ma semplicemente comunque funziona Eh si Eh si Di quanto sei arrivato su Instagram ad esempio Non mi ricordo A settecento quanti followers Ma no ma di perché mi seguono Mi seguono Comunque funziona ragazzi Fidateli Fidateli funziona Ah e soprattutto se volete raggiungere dei punti Oh e sbloccati Per poter farvi mettere più mi piace Si potete anche comprare Comprarli con i soldi Non ve lo consiglio Comprarli con i soldi Se no andare ad esempio su questi Su queste opzioni Si facebook followers ad esempio Qui vi propongono Questo tipo qui vi propone quattro punti Per mettere E voi dovete mettere Voi dovete seguire lui Esatto guardate ad esempio Follow Follow Vi si apre la paginetta Qua mettete Quindi devi seguirlo e vai di fianco Esatto Chi è? Non lo so Beh aspetterà Aspetterà Non so chi sia Forse Forse è moroso Della tipo Allora segui Segui Chiudete Chiudiamo E vi da Quattro punti Ecco infatti i 63 sono diventati Esatto E questo è la magia E la magia Metta angoscia Un tipo che ha suonato Eh si In realtà ci spara Perché Sono un fan da quello Sono un mandarino È un mandarino Dobbiamo fare entrare una volta Una vestita da magia Calmati Amplia quella cazzo di fotocamera Ci hai messo un corso davanti Vedete Cosa c'entra? Ma cosa c'entra? È il paraluce Comunque vabbè ragazzi Il nostro phonebook finisce qui Che è durato anche abbastanza C'è quanto è durato? 10 minuti? Non lo so Non mi interessa Mi fai paura a volte Voi venire a prendere quel tipo Ma lascialo fuori Ragazzi te fanno Beh ragazzi Un saluto a tutti Quindi Truccate Facebook E tutti i siti su cui siete iscritti Mi raccomando Perché le cose non vanno guadagnate Ma se c'è una via di fuga E per ottenere più semplicemente le vostre cose Ciao Ciao mandarini Un bacione Dal fuga Quanti sono i mandarini? Scusate Come potete vedere A me se piace La nostra pagina Vuol dire che funziona Il sito funziona Prima non è partito Perché non lo dobbiamo Eh prima non è partito È partito Guarda Ancora un'altra notifica forse Esatto Come potete vedere Piace il fluido Cominciano a Già Ad aggiungerci Ciao ragazzi Vedete Funziona Alla risposta Quanti sono i nostri mandarini Sono 2357 Ma grazie a questo trucco Diventeranno 3000 Sì